Una nuova sala operativa per gestire i 10.500 interventi che ogni anno impegnano i Vigili del Fuoco in provincia di Brescia a disposizione degli operatori tutti i dati sulle risorse nella zona in cui si verifica l'emergenza. Adesso tutte queste informazioni che prima avevamo e dovevamo cercare in giro le abbiamo inserite in un unico contenitore che è il nostro geoportale. 600 i Vigili del Fuoco nella provincia più vasta della Lombardia con tre autostrade, tre valli, tre laghi, un fittissimo tessuto economico e 40 aziende a rischio rilevante. Inaugurazione con i vertici nazionali dei Vigili del Fuoco. I rischi che questa provincia presenta sono innumerevoli, ci sono quelli chimici, ci sono quelli relative alle discariche, agli incendi, agli incidenti stradali. Da questo punto di vista privilegiato si ha una visione di insieme. Un salto di qualità fatemelo dire anche per la sicurezza degli operatori, perché sapere prima che scenario si incontra, qual è la situazione, consente di essere più tempestivi, più efficienti, ma di agire sempre più in sicurezza. Un modello che farà scuola, ha commentato la capodipartimento, e che sarà riproposto su tutto il territorio nazionale.